Si ritroviamo una settimana dopo con questa battaglia che va avanti, ho fatto le foto, ho visto una sfilata incredibile di Lucchetti. Abbiamo superato i 50.000, andiamo verso i 60.000, quindi siamo veramente contenti dalla risposta dei comaschi, dei turisti italiani e soprattutto dei turisti stranieri. Sono attentissimi e sensibilissimi a questo tema drammatico del cantiere, del lago, del muro, delle baratie, delle grate e tutto il resto. Quindi oggi si va avanti fino a questa sera? Questa sera, poi domani abbiamo con i nostri ragazzi in giro a dare Lucchetti, poi le consegneremo anche in alcuni negozi, eccetera. Siamo avanti fino a sfinimento, fin quando la regione ha promesso e garantito anche ultimamente. Ecco, hanno detto, si parte giovedì, quindi... Noi siamo contentissimi, ci siamo qua a aspettare, ma senza ironia, senza sarcasmo, ma noi siamo qua a aspettare positivi, simpatici e colorati. La regione, dopo nove anni di macelli, di disastri, di promesse e disattese, finalmente faccia quello che deve fare, tolga le grate, tolga le palizzate e ripristina il lungo lago, che è la cosa più importante. Grazie, direttore, buon lavoro.